Gaudete, Dio è in mezzo a noi. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, siamo alla terza domenica di Avvento, ecco il perché di questo slogan Gaudete, che in latino significa esultate, gioite, ed è l'inizio dell'antifona della messa di oggi, proprio perché abbiamo delle letture di gioia. E in queste letture abbiamo anche il Vangelo secondo Giovanni, il capitolo primo, dal 6 all'8 e dal 19 al 28. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta alla via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui, io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Amen. Cari amici, di nuovo in questa domenica, come domenica scorsa, abbiamo risentito la testimonianza di Giovanni il Battista. Come mai? Siamo nell'anno B, un anno dove la liturgia ci propone ogni domenica il Vangelo secondo Marco. Ma essendo Marco un Vangelo, il Vangelo più breve, soltanto di 16 capitoli, ecco che in alcune domeniche ascoltiamo anche altri Vangeli. Ma è bello ascoltare Giovanni stesso, questo evangelista che parla di Giovanni il Battista, che è venuto a portare l'annuncio della luce vera, è venuto a farci rallegrare. Pensate che Giovanni il Battista, figura che spesso la assimiliamo ad un uomo vecchio, molto forte di carattere certamente, ma anche austero, serio, che grida convertitevi. In realtà, fin dal seno, dal grembo di sua madre Elisabetta, quando c'è stato l'incontro con Maria, che aveva nel proprio grembo Gesù, figlio di Dio, ha iniziato ad esultare, a sussultare di gioia, perché sentiva, percepiva la presenza del Salvatore, la presenza di Dio. Giovanni il Battista è un uomo di gioia, è un uomo che predica, che grida nel deserto certamente, che grida e richiama la conversione, ad una nuova apertura alla sua venuta, ma è l'uomo della gioia. Non dimentichiamolo, perché di fronte alla presenza del verbo fatto carne, della promessa di Dio da secoli realizzata, proprio ai tempi suoi, come non poteva rallegrarsi, come non poteva gioire della presenza dell'agnello di Dio. Quindi, certamente, prima preparava la strada nei cuori delle persone che accorrevano a lui. E' dicendo, preparatevi, convertitevi, sta per arrivare colui che vi battezzerà in Spirito Santo, vi immergerà in una nuova fase, ma non è una conversione seria, pesante, che ti porta via il piacere e la gioia della vita. Tutt'altro. Ma noi abbiamo questo schema fisso. Conversione uguale rinuncia ai piaceri della vita. Conversione uguale rifiutare tutto ciò che mi dà felicità. Conversione uguale fare poche cose e non gioire della vita del mondo. Conversione significa rivolgere, convertire il nostro sguardo verso Dio, che è in mezzo a noi, che è presente. Conversione, tra l'altro, in greco è metanoia, cambi e cambiamento di pensiero, di intelletto. Non leggere più, quindi, con la mente, la vita, con le sue difficoltà, ma l'intelletto legge le promesse di Dio, le meraviglie di Dio. E le legge chiaramente con la sua parola, perché senza la sua parola l'intelletto inizia a pensare troppo. E quando pensi troppo, inizia ad allontanarti da ciò che Dio è, da ciò che Dio ha fatto. Cosa ha fatto Dio? Venne nel mondo la luce vera, quella che brilla e che illumina ogni uomo. Amen? Ecco la buona notizia, la novità, che Giovanni il Battista sta gridando nel deserto. Preparatevi! Dio arriva! Dio viene a sorprenderci! Dio viene a guarire, a liberare, ad incoraggiare, a darci una nuova vita. Amen? Questa è la gioia. Ecco il gaudete. E Giovanni il Battista dice, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Ecco il Messia, in mezzo a voi. E come lo ha detto Giovanni il Battista a tempo fa, anche noi oggi lo possiamo dire. In mezzo a noi c'è il Messia, Dio è l'Emmanuele. È in mezzo a noi, non è fuori da noi. Ma è bella l'espressione di Giovanni che dice, voi non lo conoscete. Pochi fanno esperienza di Gesù. E fare un'esperienza personale con Gesù Cristo non significa recitare le preghiere, non significa praticare una ritualità, una religiosità, ma significa incontrare quotidianamente Cristo nella Sua parola, nel mio cuore, nella comunità, in un corpo che cammina verso di Lui. Ecco allora, gioiamo, esultiamo. La lettera ai Tessalonicesi oggi ci dice, fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie, gioite, esultiamo. E il Salmo di oggi è preso a pensare che proprio dal Vangelo secondo Luca, capitolo primo, la mia anima esulta nel mio Dio. Abbiamo musicato questo bellissimo Salmo, questo inno, come Shoutu Quainonia. E vogliamo che sia la preghiera della Chiesa oggi, la Tua preghiera. La mia anima esulta nel mio Dio. Oh Signore, mi rallegro oggi in Te. Voglio gioire perché sei nella mia vita. Tu sei in mezzo a noi. Apri i miei occhi, Gesù, perché io posso accamminare in Te e credere che Ti manifesterai in questo Natale, in un modo nuovo, speciale e sorprendente. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Ame. Cari amici, allora accogliete questo bellissimo slogan, Gaudete Dio in mezzo a noi. E che il Signore oggi vi faccia sperimentare e vi doni questa gioia del Salvatore che è potente e che può risolvere tutti i nostri problemi. Grazie per avermi accolto. Buona domenica. A domani. Ciao. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata.